pizza beach rimini qua con me l'organizzatore roby pezzol allora roby è andata come andata tutto bene allora è andata benissimo grazie dio la manifestazione è andata come più o meno come volevo io ci sono stati giustamente come prima volta un po di imbarazzi un po di difficoltà nell'organizzazione perché essendo da solo giustamente ho fatto qualche errore ma è tutto fa parte dell'esperienza fa parte dell'esperienza auguro che la prossima volta io riesco a fare del mio meglio rimini bici nasce dopo il 2005 alla scomparsa di del povero carmello che era il presidente della rimini pizza e dopo tanto tempo di nuovo il campionato nazionale a rimini l'abbiamo fatto su viserba che è una spiaggia bellissima veramente molto accogliente e abbiamo dato c'è addirittura il nome rimini bici appunto per quello perché si svolge sul mare abbiamo fatto sei categorie sei categorie di cui quattro di pizza e due di abilità di cui una di quelle di pizza e la stg è dedicata a mia madre che è scomparsa tre anni fa è una napoletana doc che c'è grazie a lei sono quello che sono oggi senti il prossimo appuntamento invece il prossimo appuntamento daremo l'anno prossimo se dio vuole è giusto fine finiamo questo è sicuramente cominciamo già lavorare il prossimo giusto per non fare più l'into non avere più dell'intop ringraziamo rovi pezzuol questo è pizza food punto tv da viserba rimini pizza beach francesco zazzara